Ciao a tutti da Gianni Samannà, vi presento la mia macchina Cioè, chiediamo che c'è una che gira Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ma parla in inglese, ora c'è parlava carromenavo niente Andiamo a vedere, è giusto perché noi siamo compatibili con E' giusto che bisogna aiutare le persone Aspetta, 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 aspetta Where you go? Come on, come on Sì, ma io non posso correre Sei mio, sei un cazzo MIS, 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 sono MIS No, sono MIS MIS Che tedesco ci fanno? MIS Siamo in abbordaggio, abbordaggio No, no, guardate No, Gessomino, Gessomino, data da Gessomino Ora andiamo, qual è il problema? Vai, vai, vai Inizio, ci fai fare un giro e chiede la sarriglia tutto, MIS E fa un giro nella Ferrara Ragazzo? Ragazzo? MIS